Enrico ne parlava a microfoni spenti, la passione che ti fa ricominciare dall'eccellenza e ti fa mettere in gioco alla giovane età di 36 anni. La passione ma più che altro è l'umiltà secondo me, al di là delle qualità perché l'umiltà forse mi ha portato ancora adesso ad avere stimoli importanti. Per me ogni anno, il primo giorno è come il primo giorno in scuola, mi sento sempre emozionato, è sempre la stessa cosa. No c'era perché? Oltre perché c'è il mister Esposio con il quale hai fatto più gol di tutti durante la tua carriera? No c'era a prescindere dal mister, perché il mister forse è stato uno degli allenatori che mi ha insegnato ancora qualcosa a 35 anni, ho imparato molto da lui e questo mi va dovuto, forse è uno degli allenatori più importanti che io ho avuto. È una garanzia per questa categoria. No c'era perché sono stato contattato da una società dove mi è sembrata una società equilibrata, è una società adatta al mio modo di essere, nel senso che con l'umiltà, con passione vuole crescere, vuole riportare la nocerina dove merita. Come si vince? Se dovessi dire a qualche tuo collega più giovane che adesso si approccia al calcio giocato fra grandi, diciamo così, come si vince questo campionato? Come si vince? Si vince dobbiamo essere una squadra camaleontica, nel senso che troveremo i campi di polvere dove non ti puoi permettere di entrare in campo in punta di piedi, devi essere più cattivo di loro, correre più di loro e dimostrare che hai fame, questo secondo me è un obiettivo che ti porta lontano. Grazie a tutti.